Nuovi progetti per la città dello sport di Ferentino, in che cosa consistono? Innanzitutto nell'ultimo consiglio comunale abbiamo prorogato la convenzione alla SD Pro Calcio, l'associazione che gestisce gli impianti sportivi della nostra città e quindi di conseguenza al Frosinone Calcio, una proroga per la quale avevamo già preso un impegno nel consiglio comunale del 2016, all'esito di quelli che sono stati tanti lavori di intervento, di manutenzione e riqualificazione della zona sportiva della nostra città. Quattro campi realizzati, la riqualificazione degli spogliatoi, delle tribune, dei servizi, di tutte le aree interne ed esterne alla zona sportiva. Quindi un impegno che avevamo con il Frosinone Calcio e con la SD Pro Calcio per questi interventi importanti che hanno permesso di riqualificare la zona stessa, quindi di mettere a disposizione della nostra cittadinanza una struttura riqualificata e nello stesso tempo di ospitare il Frosinone Calcio, che negli ultimi anni ha dato tantissima visibilità alla nostra città. Non possiamo dimenticare il campionato di Serie A, ma anche nel campionato di Serie B, non solo il Frosinone, ma le tante squadre che militano nel campionato cadetto, che utilizzano le nostre strutture ricettive, ma anche le nostre strutture sportive, dando quindi grandissima visibilità alla città di Ferentino. Questo era un primo step, ora ci avviamo al secondo step, con l'ampliamento delle strutture esistenti e anche stiamo lavorando su un progetto che possa ospitare altre discipline sportive, così di dare una risposta a 360 gradi a tutta la cittadinanza di Ferentino.